ed eccoci nuovamente ragazzi ciao 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 allora vi avevo promesso due video delle sale demo che abbiamo visto a lise ma interrompiamo un attimo perché ieri c'è stato un po' un colpo di scena interessantissimo ebbene sì ieri sono andato a fare ben quattro unboxing di prodotti ragazzi bellissimi e dico solo una cosa b e v serie 800 e vi parlo dell'801 dell'803 dell'804 e poi anche il relativo subwoofer ho fatto l'unboxing dove da af merate storicamente chiamato af merate ma è alta fedeltà di calco ebbene sì ragazzi stanno preparando le sale sia stereo che per il cinema perché questo venerdì 17 e sabato 18 c'è queste queste sale demo disponibili ma soprattutto per il cinema ragazzi sapete che noi guardiamo se parliamo sempre di venomale del mondo del televisore sale cinema ma colpo di scena ci sarà anche il mitico emilio frattaroli e vi avviso anche che venerdì ci sono anch'io ma solo venerdì quindi chiunque voglia venire sappiate che venerdì mi trovate lì al negozio di alta fedeltà di calco ex af merate storicamente chiamato così ragazzi adesso guardatevi il video dell'unboxing e da appassionati godete godete perché ieri ci siamo veramente è stata una giornata è stato un pomeriggio più che giornata un pomeriggio fantastico mi sono veramente divertito voglio ovviamente ringraziare i ragazzi che mi hanno supportato nel fare i video e sopportato quindi carmelo e leonardo e soprattutto il proprietario del negozio alfredo ragazzi con questo è tutto un caro saluto ciao 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 ed eccoci allora siamo arrivati qui in negozio adesso iniziamo con gli unboxing ma di unboxing ce ne sono tante ad esempio partiamo qua vediamo i ragazzi che stanno iniziando a sballare guardate cosa c'è guarda che c'è scritto sono dei monofonici della classe 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 che modello è si sa va bene ecco questo qui questo è lo stereo questi qua sono i monofonici e guardate ragazzi l'unboxing andiamo a fare andiamo a fare l'unboxing delle 801 di 4 ma non ci basta non siamo contenti non siamo per niente contenti vogliamo di più e ci sono anche le 803 di 4 da sballare a fare un bellissimo unboxing abbiamo un altro unboxing da fare 804 di 4 stiamo iniziando l'unboxing anche del subwoofer modello db2d che qua siamo insieme a leonardo che gli diamo una mano anzi più che gli diamo una mano ti stiamo anche dando un po fastidio mentre stai facendo l'unboxing ed eccoci delta mono iniziamo il primo unboxing così vediamo anche un po lì in un ballo com'è ragazzi alta fedeltà merate non scherza vediamo 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 c'è anche il cavo lì cavo di alimentazione ma come li imballano bene ragazzi ma come li imballano bene c'è anche un cavo di corrente bello ma che bello cavo di corrente di alta qualità ragazzi guardate che roba i signori di classe guardate che roba eccola qua qui c'è chiavetta usb cavo vabbè il solito cavo gecchettino quello è un trigger sì sono i trigger per l'accensione dei finali con il pre e andiamo avanti ragazzi manuale di istruzioni vabbè per un finale di potenza non serve tanto manuale di istruzioni questo e questo lo mettiamo sul tavolo così non facciamo confusione adesso bisogna di un volontario 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 se avete problemi di schiena ve lo sconsiglio ma e come facciamo lo tiriamo su e lo spostiamo qua ci sei? ok perfetto faccio ed ecco che facciamo l'unboxing di questo finalone monofonico frontale adesso andiamo a vedere posteriormente il pannello come è ed eccolo qua cosa c'è l'ingresso? allora c'è l'ingresso bilanciato e sbilanciato ventolone di raffreddamento uscita monofonica ingresso due venti e abbiamo qua anche il mitico Carmelo ciao Carmelo ciao sei mancato qua eh sei mancato dobbiamo fare l'unboxing con te caro alza beh esteticamente c'è il suo perché stavo dicendo allora questo è il monofonico adesso sbagliamo anche l'altro monofonico e questo è la versione stereo allora potenza si parla di 500 watt su 8 ohm ok e la prima è andata? prima è andata Carmelo hai da fare in questi giorni? no abbiamo già finito come è già finito? devi ancora tu sballare? ecco ragazzi adesso sbagliamo anche il secondo finalone insieme a sistemare questi finali è dura ragazzi eh sì belli pesantini li metti di dentro e adesso iniziamo l'unboxing delle 801 D4 il modello top di gamma della serie 800 vado? vai! e si parte ragazzi con l'unboxing del top di gamma io mi auguro che sia di là sia di qua lo scivolo 801 D4 801 D4 voilà vieni a fare vediamo com'è vediamo ho visto che è di qua vediamo com'è l'imballo ragazzi tanta roba bello bello bircia qua cos'è che c'è allora cos'è che è questo? un manuale è tanto uguale blisa no qual è la registrazione queste sono ma questa è una scatoletta scatola degli accessori questa scatola con gli accessori sicuramente ci sono dentro i i piedini giusto? beh guarda ti faccio vedere un po' vedere i piedini cosa c'è dentro fa me anche le foto facciamo anche le foto eccoci qua vediamo un po' ah già ci sono già i cavi per le cose ok sbagliamo ragazzi oh ma ah è una gonna è una gonna via via che se no ti schiaccio qui ragazzi c'è si 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 no no beh mettetevi come volete che io intanto giro e vediamo un po' però aspetta che voglio fare una foto però se devi girare ah qua c'è lo scivoletto ma lo scivolo dov'è? è questo qua è lì è quello allora è qua no è di là no è l'altro no scende giù davanti scende giù davanti via l'altra minigonna qua e via l'altra minigonna allora e vi tieni via quello davanti sì eccolo qua ecco lo scivolo è qua davanti quindi metti questo e l'incascio e la vai scendere da solo simpatica eh sta cosa dello scivolo eccoci sì ci siamo eh vai vai aspetta che ti avvia tutta l'ado vai ma lentamente eh ed ecco a voi la cassa con un colore che io non ho mai visto ragazzi è un bianco o un bianco crema andiamo a vedere andiamo a vedere cosa c'è ah toglia ragazzi c'è ancora il la cosa che si sa ah c'è anche quello ed eccoci ed eccoci qua quella nuova era colorazione nuova era no scicchiare guarda là dietro che vai ma che finiture ragazzi guarda che bella questo più che un diffusore è un'opera d'arte ragazzi ma guarda che bello guarda come sono curate guarda eh ti faccio notare che una serie vecchia non aveva questa pelle qua che li ha messo qua ah una pelle ah cavolo ragazzi è pelle sembra la pelle sai cosa sembra è il cruscotto delle automobili è quella che mettono nella Rolls-Royce vai vai fai il dettaglio dei woofer davanti parti da qua vai vicini vedi è una bella cassa eh Gianluigi cosa dici non dici niente sei sconvolto per me tu sei sconvolto è grande c'è una gran bella cassa bella bella grossi woofer belli ok questo è cambiato rispetto alla serie vecchia sì è un po' più intelligente come sono fatte le montate le montate sì sì adesso te le faccio vedere come giusto per far vedere come sono vedi questo è quello del medio questo è più bella la copertura le viti ah per stabilizzare sotto sì ma devi mettere questo prima sì che cos'è ragazzi questo qui è quello che chiude col buco là perché è brutto vederlo così capito ma perché c'è un buco qua dietro ah queste 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 si quella lì è quella che è un fermo praticamente vedi quella lì è quella che alza beh però che roba con chi con la sede con la clausa ed eccoci allora abbiamo finito l'unboxing delle 801 e adesso guardate un po' cosa facciamo guardate un po' facciamo l'unboxing anche delle 803 di 4 e giochiamo anche con queste sbagliamo e ci divertiamo è un colore difficile ce la vedi voi le ricette eccoci che tanto speri di riuscire a rimanere allora ragazzi stiamo iniziando l'unboxing delle 803 di 4 la differenza che non sono di colore bianco ma sono questo colore che io personalmente non conosco è questo walnut walnut il nuovo colore di questa ah il nuovo colore di questa ah un nuovo colore ed eccoci qua è un po' più semplice è bene è l'ingombro eccoci più buona qua che è il bianco più appartamento normale ciao dei monticelli ma stavolta sono venute via tutte allora ragazzi grande sorpresa vediamo il colore di quest'anno che è una novità 2023 stiamo finendo di togliere le coperture ed eccoci che bello ragazzi che è lusso ma che è bella adesso è più bella bella di confine in mezzo c'è anche l'802 per chi la vuole una via di mezzo queste sono 18 cm 18 cm di woofara guarda che bello il colore questo si colore è molto bello guarda questa è più semplice questa è come la tua più o meno come la mia uguale la stessa 803 di 3 questa è di 4 eccoci andiamo avanti con l'unboxing della 803 di 4 con i fanciulli di alta fedeltà merate il buon carmelo stavolta sono rimasti tutti a posto i pali bv hanno degli imballi ragazzi gli diamo 10 stelle adesso togliamo il profilattico eccolo qua perfetto perfetto è già arrivata allora questa cassa può essere amplificata bi amplificata praticamente giusto? esatto in questo caso non fate la bi amplificazione quindi utilizzate il 11 eccoci adesso iniziamo a collegare anche le piccoline e proviamo le 803 e vediamo come suona attento al volume a me che 500 watt ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti questo è diverso da quegli altri abbiamo un altro unboxing da fare 804 di 4 anche questa possiamo già notare dal disegno che versione è il colore è la versione quella nuova rosenut allora cosa c'è qua dentro accessori che questo caso sono diversi ecco qua gli accessori è vero è vero se sono diversi dalle versioni 801 802 803 questa personalizzata perché 804 vediamo che cosa vediamo cosa c'è dentro allora abbiamo manuale letto la garanzia la garanzia product warranty il pannetto per pulirle e qui c'è una chiave inglese che una chiave fissa di plastificata si è plastificata i soliti ponticelli ma sono diversi dagli altri ok si è cambiato un po tutto e qua i piedini vediamo un po sono proprio curiosi di vedere il colore di allora questa è diversa perché questa la ribaltiamo proprio sì sì ma la devi mettere sotto sopra e ma va certo ciao dai carmelo questo è il tuo lavoro è la tua passione allora in quattro per evitare di fare danni e mi sembra il minimo visto anche il valore delle casse eccoci qua bellissimo ah no dai buone notizie ci sono già ci sono già i gommini lasciamo così allora perché queste sono quelle che qui ci sono le viti invece nell'altro sono le ruote esatto esatto no no bene perfetto allora non siamo non siamo obbligati a prendere le contropunte si è a posto te bene prego fanciulli di alta fedeltà che adesso non è più merate qua è calco sempre stato calco però perché io sono in testa sempre a essere merate perché il sito si chiama così è rimasto così è rimasto così il sito dai tempi ma che bellina questa si era della bv che noi abbiamo avuto questa è la più venduta ma dai ma è la più venduta secondo te viene questa prezzo qualità prezzo qualità dimensioni questa non lo sapevo diciamo che è la prima entry level da pavimento e anche qua ci sono le coperture dei woofer e del medio ma cosa fai li sballi già li metti comunque ragazzi mamma mia se curano le casse questi qua questa è vera inglese falli falli notare come sono fatte queste casse cioè ragazzi guardate i dettagli senti che è una rete robusta cioè alluminio anodizzato tornito guarda che si vede il segno della regatura della tornito braia l'ha tenuto come estetica molto bello vuoi notare anche voglio far notare anche la pelle anche qua anche questa versione ha la pelle questa è fine come è carina è una cassa carina ma c'è anche il suo canale centrale questa è però non c'è arrivato quello che si sta infilando dentro nell'unboxing poi ti lascio dentro questo non è l'unboxing è l'inboxing non ti lascio dentro l'inboxing dobbiamo anche qua decidete di collegarla in versione ponticellata questa è una gran bella cassa ma mi piace proprio la pelle che gli hanno messo sopra di questo colore anche sulle altre così sì 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 i due fanciulli di af merate sono veramente simpatici guardatemi un attimo fate un cheese please stiamo iniziando l'unboxing anche del subwoofer modello di b2d che non è il top di gamma quello subito dopo più piccoli quello subito dopo iniziamo a verificare cosa c'è al suo interno cosa è composto il tutto e vediamo c'è già un po gli accessori interessanti allora cos'è che punte punte io direi che metteremo i gommini piacciono già poi ci sono anche se i gommini soprattutto su uno c'ha il palquet come nel caso ci sono connessioni per ogni spina elettrica americana questa è la spina elettrica no questa americana questa è inglese questa è la nostra italiana poi col suo manuale di istruzioni ecco questo il bd2 c'è il bd1 e anche il bd3 quindi c'è tutta la serie ecco qua il woofer questo è 25 doppio da 25 doppio da 30 vabbè vabbè dai dai iniziamo se hai bisogno di una mano ci abbiamo qua degli aiutanti eventualmente eccoci vediamo subito così vediamo anche come è fatto sotto una griglietta ok griglia doppia griglia per i due sub che com'è qui che semplicemente montiamo il porto qua ma che finitura ragazzi che finitura nero lucido questa acqua è la sua zona la parte amplificata con il dissipatore di raffreddamento vedi che qua ci sono le collezioni questa è la lfe canale destro sinistro lfe quindi va anche rca ok addirittura anche del bilancio col bilanciato caso che ragazzi consigliamo sempre canon non le dico non vediamo sempre canon adesso andiamo a montare i piedini in con gomma tac 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 ok ok guardala ok perfetto lo giro qua eccolo qua mi sembra di capire questa che è una cassa chiusa è una cassa sale ed è così chiamata no? è una cassa salata quindi c'è un doppio woofer attivi entrambi mille watt giusto cos'è magnetico bellissimo qui sotto è in alluminio anodizzato molto bella molto 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 bella bene bene e poi proveremo nella sala cinema come fa poi questa andrà nella sala cinema che ci sarà la prova venerdì e sabato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti